bella raga dal vostro grande capitale napoli sempre forza napoli nella buona e nella cattiva sorte una clamorosa bomba clamorosa di calcio a mercato che se si concretizza sarebbe veramente clamoroso il napoli più per il mercato del prossimo anno molto probabilmente verrà ceduto al real madrid fabio ruiz il real madrid ne offre 70 il napoli ne vuole almeno 100 quindi potrebbero trovare un accordo circa a metà straga tra gli 85 e 90 milioni il napoli la avrebbe a sostituire con niente poco di che che è il fortissimo che a me piace tantissimo centrocampista della roma del 1996 quindi ha compiuto a giugno 23 anni la prossima 24 lorenzo pellegrini che in questo momento ad oggi ha difficoltà nel rinnovo di contratto adesso non ricordo se ancora uno o due anni non contando questo io so che ha anche una clausola rescisori di circa 40 milioni di euro ed se non trovasse l'accordo per il rinnovo e il napoli come ha fatto con manolas pagasse la clausola rescisoria e ovviamente se si mettesse anche l'accordo o primo viceversa con il giocatore per dargli circa il triplo di quello che prende la roma perché poi alla fine contano i soldi perché sono giustamente professionisti il napoli avrebbe in mano lorenzo pellegrini perché se trovasse l'accordo per giugno per un triennale diciamo a 3 milioni e mezzo di euro faccio un esempio un quinquennale rispetto al milione e 2 milioni di euro che prende la roma quindi il triplo se trova l'accordo il napoli basterebbe esercitare entro il mi pare il 30 luglio del prossimo anno la clausola rescisoria di 40 milioni e il giocatore ovviamente fosse l'accordo ad andare a napoli la roma come con manolas non si potrebbe opporre sarebbe un grandissimo acquisto staremo a vedere io vedo questa indiscrezione con l'argo anticipo il napoli sta facendo un forte tentativo per cercare di sondare di prendere questo giocatore che la clausola rescisoria non è valida adesso nel mercato di gennaio sapete i vari contratti hanno le varie clausole ma è valida da l'estate perché il napoli se fosse già in alto avrebbe potuto fare la clamorosa di comprarlo già adesso ma non è valida adesso ma è valida dall'estate dal 30 giugno insomma fino al 30 luglio insomma quello che sono i contratti che fa la roma con le clausole rescisoria che sono validi da una data all'altra quindi staremo a vedere sarebbero veramente l'indiscrezione clamorosa quindi forte tentativo del napoli di acquistare il fortissimo centrocampista a 23 anni della roma lorenzo pellegrini che a me piace tantissimo è uno dei miei centrocampisti in per ruolo in assoluto preferito ditemi cosa ne pensate se sareste contenti se ne state in napoli c'è adesso i fammi ruizze e lo sostituisse con meno della metà dei soldi con il fortissimo lorenzo pellegrini mettete un bel like a questo video chi non sei ancora iscritto al mio canale iscrivetevi iscrivete al mio canale continuiamo a far crescere sempre di più questo canale una buona giornata a tutti sempre forza napoli ciao